benvenuti in questo nuovo video spacchettamento di vroescepi, con la premessa arriverò anche con altri video scusate con altri video dove purtroppo ho avuto problemi con il video di editing e quindi ho fatto fatica queste invece io li registro e li carico subito chiusa questa premessa e iniziamo subito allora ho preso questo set con questa borsona grande che è perfetta per andare al mare c'è anche questa qua la tracolla e davanti c'è una tasca molto ideale per andare al mare al posto dello zainetto si può utilizzare quella in più dove c'è la maniglia che si può mettere l'altra maniglia e chiudere ottima nel set comprendeva il freschezza gambe leggere eccolo qua questo messo in frigo è super ottimo di estate così vi aiuta a sentire meno la pisentezza delle gambe poi c'era il solare questo qua doveva essere la versione piccola solo che mi è arrivati nella versione grande la protezione 30 fps fps e uvb e uva fps vuole la protezione vabbè se posso fare e questo è latte comfort io ho provato la versione quella con la pompetta che adesso mi viene il nome dirvelo adesso ve lo leggo da qua che è latte spray mi trovo molto meglio con latte spray che questo qua però ottimi anche loro questo magari dopo aver utilizzato la 50 si può utilizzare la 30 che sia già un colorito poi nel set c'era il dopo sole idratante 3 in 1 formato viaggio questo qua magari è adatto quando si va al mare così un weekend senza portarvi via il formato da 150 ml avete quello da 50 è ottimo e questo qui è 3 in 1 è un latte idratante che ve lo leggo da qua che aiuta a linire idratare la pelle e comunque a riparare i danni del sole e a ridonare elasticità o non mi viene la parola elasticità ce la posso fare alla pelle io l'ho utilizzato è ottimo ha un profumo eccezionale di Monoi è ottimo io l'ho utilizzato anche su bambini ed eccezionale poi nel set c'era anche il contorno occhi della Pur Black che aiuta ad attenuare le borse e idratare io l'ho utiliso molto ottimo soprattutto se messo in frigo d'estate vedete che c'è la rotellina in acciaio vi aiuta ancora di più a diminuire le borse poi c'era il Intense Metamorphose questo qua in versione waterproof che adesso è in sconto perché ci sono i saldi vi faccio vedere anche un catalogo ci sono i saldi e costa 14,95 attualmente no 17,95 mi correggo anziché 20 euro poi abbiamo la matita nera che è in sconto anche lei 7,95 e è la stilo waterproof in versione nera ottima mette nell'anima interna nell'occhio non cola vista su tutta la giornata ottima non brucia l'occhio non upfit studio all'occhio poi all'interno del del set c'era anche il gel concentrato gel dolce concentrato al monoi perché c'è questa nuova linea del monoi ottimo questo qua equivale a un flacone da 400 ml ne basta veramente poco e che dire questo da portare in viaggio vi assicuro che è eccezionale poi all'interno c'è questo qua che è una maschera mousse alla camomilla bio che è una novità poi c'era l'offerta che se prendevi tre prodotti della linea solare vi legalavano la boraccia quindi io ne ho approfittato mi servivano giusto queste due cose che poi non sapevo che ritrovavo nel kit questo qua io lo trovo eccezionale per i capelli che sono decolorati ma non solo d'estate al mare si spruzza vi protegge il cappello da eventuali scottature soprattutto anche qua nel cuoio cappelluto questa è una protezione 15 non è solo per i capelli ma anche per il corpo chi vuole utilizzare l'olio per abbronzarsi questo qui è ottimo non vi scotta una cliente mi ha preso l'autobronzante questo latte sublime latte abbronzante sublime questo qua non so dirvi niente perché io non l'ho mai utilizzato avevo intenzione di provarlo però passi avviso che corpo ma ho un po' paura io di provarlo sinceramente quindi resto nel mio colore bianco latte e sono a posto e poi ho ripreso come vi ho detto questo qua che è il latte corpo da 50 ml guarda un attimo perché c'era una sostituzione non so quale ma non credo comunque questo qua da 50 ml ottimo poi un gel igienizzante almonoi questi sono sempre utili questo magari da portarsi al mare ok quindi faccio della boraccia con i prodotti che sono arrivati questa boraccia qui è molto piccola come vedete è da non mi ricordo quanto è devo essere sincera ve lo dico guardando dal catalogo perché non mi ricordo boraccia da in acciaio inox comoda alla moda riduce il consumo di plastica boraccia termica mi arriva in faccia vediamo se qua me lo dice da quanto è volume 370 ml molto piccola da portarsi anche al mare oppure tipo io stasera che vado a ballare questa la lavo e me la porto a ballare quindi ottima tiene il fresco e tiene il caldo poi mi è stato ordinato un set da 1995 formato da questo gel antifatica gel fresco linitivo piedi con lavanda e il gel fresco gambe leggere questo qua ottimo anche questi messi in frigo poi per i piedi per le gambe ottimo poi un mio cliente mi ha ordinato il balsamo 4,95 brillantezza si trova bene poi e nel skit quello che vi ho prima fatto vedere della borsa c'era anche una crema idratante della Hydra Vegetal poi questa l'ho acquistata io è la crema Sebo Vegetal perché sono le mie creme Hydra Vegetal Sebo Vegetal che mi trovo da dio poi mi è stata acquistata una crema della Hydra Vegetal questa qua me l'ha acquistata mia zia si trova bene mi ha detto di acquistarla poi mi hanno acquistato ah e sempre nel kit c'era lo struccante bifasico della Proublet basta agitare bene e lui si mescola prima dell'utilizzo mi è stato acquistato a 5,95 perché era in offerta questo purment questo è un detergente scrub anti punti neri 3 in 1 ottimo si può utilizzare tutti i giorni perché va a fare uno scrub delicato non troppo aggressivo e a 4,95 il deodorante purezza questo qua roll on poi l'acqua la mousse questa qua detergente che io mi ci trovo bene questo è dato a tutti i tipi di pelle io mi ci trovo da dio l'utilizzo sotto la doccia perché come vedete qua mi sta aiutando molto a seccare questo brufolo vedete la pelle com'è l'ho utilizzata stamattina non tende a lucidarsi non tira è ottima qualcosa e poi uno shampoo un balsamo a 4,95 della linea Ricci poi allora visto che sono già qui vi dico che in vigore c'è questo catalogo fino al 27 luglio ci sono queste offerte meravigliose della linea del carité di quest'anno natale questo è latte corpo 2 latte corpo a 10,95 poi a 13,95 2 scrub e 9,95 2 balsami mano poi abbiamo questi qua in offerta il shampoo 2,95 4,95 il latte doccia abbiamo in offerta i vecchi fondotinta super matte e i salodi fatti i super matte a 7,95 0 difetti a 9,95 poi c'è l'ombretto quello beige fondotinta beige 200 2,95 poi c'è il matitone a 6,95 e poi ci sono le ragdose a 4,95 il beige 200 e il rosè 300 e gli altri a 9,95 poi della linea white botanic c'è la maschera notte illuminante antimacchia poi in offerta abbiamo i solari il latte spray da 30,12 e quello 50 a 14 e il latte comfort a 9,95 mentre il trattamento viso dopo sole a 9,95 e a 7,95 il latte dopo sole poi abbiamo apprezzo proprio buttato lì l'olio idratante iridescente corpo e capelli a 8,95 e a 14,95 il profumo almonoi poi cosa abbiamo altro il diffallier 13,95 questo aiuta a favorisce l'aliminazione di scoria e tessine depurando l'organismo quindi vi aiuta a drenare poi abbiamo il siero adesso Dante e l'idratante quotidiano uno a 14 euro l'altro a 11,95 e questo qui in offerta a 7,95 proprio anche questo buttato lì perché di solito costa sui 12 euro poi vediamo un attimo abbiamo anche a soli 32,95 entrambi i cofanetti questo qui ha il rossetto e il profumo mentre questo ha il profumo e il bagno doccia e la crema se non ha rossigia il doccia e crema questo è il mon evidence e questo è il mon rouge e poi abbiamo in offerta i profumi quelli più freschi a 16,95 ciliegia rosa tè verde mughetto e questo cos'è è la verdiera poi abbiamo in offerta le grand rouge e le zier questo qua in offerta anche questo buttate lì a 9,95 che di solito costano 14 euro anzi 17 euro scusate poi in offerta abbiamo i correttori anziché essere su 12 euro sono a 6,95 sia quelli colorati che quelli normali in stick poi abbiamo in offerta come vi ho detto la versione waterproof 17,95 del mascara intense metamorfose e anche quella normale a 16,95 che di solito costa 20 euro come vi ho detto e anche quelli normali di solito costano sui 14 euro sull'offerta 12,95 questi qua poi come vi ho detto abbiamo le matitte stilo waterproof a 7,95 che di solito costano sui 12,95 a prezzo pieno abbiamo 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 anche poi questo lo possiamo mettere giù il trattamento a 6,95 anziché 9,95 questi qua anziché 9,95 a 6,95 i shampoo anziché 4,95 a 3,95 abbiamo il contorno occhi questo qui in offerta anziché 14,95 a 9,95 abbiamo la crema leggera ninitiva a 9,95 eccola eccola qua poi abbiamo le due creme queste qui dressebo vegeta della idra vegeta anziché a quasi 10 euro le abbiamo 7,95 l'una sia in versione questa qua che è quella idratante 48 ore non stop che quella ricca idem oltre a questa abbiamo anche il trattamento idratante anti imperfezioni a 7,95 il siero e la crema giorno della elixir zuness uno costa 14 euro l'altro costa 19,95 l'altro costa 16,95 tra l'altro è quello un po' più venduto di tutti idem il trattamento giorno e siero della lifting vegeta è alle 19,95 e 22,95 poi poi giorno e crema giorno e siero della filler vegeta siero 22,95 e crema 19,95 le goccine quelle che costano quasi 60 euro dell'antiage global le abbiamo a 39,95 poi abbiamo la crema giorno e sia versione normale che per versione secche a 22,75 della antiage global e la super essence a 26,95 questa qui abbiamo l'antirughe benefica occhi della ristream a 14,95 e la crema super ristrutturante a 19,95 queste sono tutte le offerte inoltre vediamo qua la tenda cosa ha messo ci ha messo dei campioncini come omaggio e le fatture e dopo tutti i cataloghi che ho costato io quindi questo è tutto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i ciao